Nel senso ci sa caldo, speriamo un pochino meno voi che siete all'aria fresca. Allora, per oggi è il nostro amico Alessandro, poi staremo a fare le presentazioni via via durante il concerto. La prossima canzone è un nostro pezzo che mostra il nostro plato anche un po' più cazzone se faccio passato il termine, e si chiama Australia. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.